Presentazione ufficiale per la stagione 2021-2022 per la Tessa Calcio, una stagione si spera vivamente della ripartenza perché dopo mesi e mesi di pausa forzata legata alla pandemia adesso le cose sembrano tornare e volgere al sereno anche grazie a questi vaccini che dovrebbero almeno teoricamente regalare un briciolo di vita migliore, non dico come qualche anno fa ma quasi. Dopo questa divagazione volevo soltanto dire che la stagione della ripartenza anche per la Tessa Calcio, una Tessa Calcio che si prepara a nastri di partenza del prossimo campionato di promozione e con Luciano Cinali vicepresidente affrontiamo il discorso inizialmente sulla società, l'ho detto anche nella presentazione, una società forte a livello numerico e quindi vi permette di gestire meglio questi campionati senza svenarvi. Buonasera, buonasera Antonio. Sì, speriamo che questo sia l'anno buono per una ripartenza più serena e non come lo scorso anno, quindi speriamo di tutti vivamente di vivere un anno più tranquillo rispetto a quello passato e quindi di portare a termine una stagione. Una stagione che pensiamo di aver allestito una squadra una buona squadra e quindi di ben figurare in un campionato molto difficile e quindi niente, noi ce la metteremo tutta a partire dalla società, una società che col passare degli anni comunque si è rinforzata sia a numero sia a livello numerico che il ritorno anche di vecchie glorie, diciamo del passato, che facciano parte anche di altre società che ci hanno preceduto e quindi niente, ci sono tutti i presupposti per fare bene e colgo l'invito anche a tutta la cittadina di Atessa, chi vuole entrare a far parte di questo gruppo, noi siamo ben contenti, le porte sono aperte a tutti e quindi solo magari con l'arrivo anche di, non si può mai sapere, di qualche altro socio, si può aspirare anche a qualcosa di più importante, però adesso manteniamo i petri per terra e pensiamo di affrontare questo campionato nel migliore dei modi. Ma poi l'arrivo di soci serve anche non soltanto dal punto di vista economico, ma è utile anche chi porta la borraccia, chi lava i panni, quindi chi si occupa della semplice manovalanza è molto più utile a volte di chi mette i soldi. No, no, ma infatti è proprio così, mi dici bene Antonio, come si dice l'unione fa la forza, noi siamo una società strutturata dai semplici soci a persone che come hai detto tu portano le borracce, a persone che pensano al mercato, ognuno ha il suo ruolo e quindi quando abbiamo intrapreso questa avventura circa 5 anni fa che militavamo in seconda categoria, adesso arrivare in promozione con questa società e con l'arrivo di altri vecchi, nuovi soci che comunque ci hanno dato manforte, penso che i risultati si siano visti, quindi come si dice, squadra che vince non si cambia, anzi ripeto, noi accogliamo tutti per puntare a un futuro magari, non mi far dire quella parolina che qua di Scaramanzia già ce n'è troppa, però non si può mai sapere. Noi cerchiamo sempre di ben figurare perché la Tessa comunque pensiamo che merita, non dico campionato CND o lega, però penso che l'eccellenza ci può stare tranquillamente. Prendendo spunto anche da precedenti interviste che abbiamo fatto con te, nelle quali tu ricordavi che le migliori annate della Tessa ci furono quando si giocò a Montemarconi di Tessa, ma come ho detto io nella prepresentazione di questa sera, è indubbio che soprattutto gli affisionatos, quelli di una certa età, preferirebbero vedere la Tessa giocare al Fonte Cicero, quindi andando tranquillamente a piedi e a due passi dal centro, così non sarà per problemi di agibilità, adesso le colpe non è la sede idonea per rimarcare, ma sappiamo benissimo da chi dipende, intanto il primo cittadino ha detto di pazientare, però comunque ci sarà da giocare a Montemarconi per un po' di tempo. Sì, ci sarà da giocare anche quest'anno a Montemarconi, è chiaro che, dico la verità, per noi giovani non fa differenza giocare alla Tessa o giocare giù in quel di Montemarconi, è chiaro che il cuore ci spinge sempre a voler giocare qua, perché questo comunque è il campo storico, dove tantissimi tifosi che ricordano la quarta serie di un tempo sono legati a questo campo e quindi anche fermandoci per strada ci fanno sempre la solita domanda, perché non giochiamo alla Tessa e poi sinceramente a noi non dico che non ci piace rispondere a questa domanda, ma oramai sono anni che rispondiamo sempre a questa domanda, speriamo magari in un futuro non troppo lontano di tornare come una volta, quando la Valdisangro giocava a Montemarconi, noi giocavamo a Tessa, i derby si facevano sotto e si facevano qua, eravamo tutti felici e contenti, speriamo, speriamo, niente, questo è il nostro auspicio, nel frattempo aspettiamo tranquillamente che l'arrivo di questo giorno e quindi per adesso giochiamo a Montemarconi, più di questo noi come società non possiamo fare perché non dipende da noi, se dipendesse da noi, voglio dire, già era tutto, come si dice, già era tutto fatto, però purtroppo, ripeto, ci sono questi problemi da sistemare, speriamo che l'amministrazione comunale, niente, riescono a risolvere questi problemi di agibilità e quindi, diciamo, ognuno può soffrire del suo campo, dei campi storici, ripeto. Un settore al quale tieni in particolare è il settore femminile perché la Tessa da quest'anno ha iniziato ad intraprendere anche questa nuova avventura? Sì, sì, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, è un'avventura nata l'anno scorso, diciamo che abbiamo investito tante risorse, ci abbiamo sempre creduto, un progetto difficile ma allo stesso tempo ambizioso. Siamo partiti con una decina di bambine, poi purtroppo, a causa Covid, abbiamo interrotto subito l'attività dopo un paio di mesi, però fortunatamente devo dire che nella ripartenza negli ultimi due mesi, di maggio e giugno, addirittura siamo riusciti a incrementare anche il numero, quindi arrivando a una quindicina di bambine. Questo ci fa ben sperare, ringraziamo tutti i genitori che credono insieme a noi in questo progetto. È una novità, diciamo, per la zona perché comunque, diciamo, oltre, dicono i comuni dei pinitrofi, penso che ci sia solo Castelfrentano e quindi è una novità che abbiamo fatto. Ripeto, noi ci crediamo, ci crediamo come i maschietti e quindi posso dire anche con orgoglio che siamo una delle poche società in zona che facciamo tutte le categorie, dall'attività di base ai ragazzi dei giovanissimi, allievi, tutte categorie regionali e quindi con l'aggiunta quest'anno anche del calcio femminile che speriamo di crescere per poi magari un domani di disputare, chi sa, magari anche un campionato regionale. Questo è il nostro auspicio. Ripeto, questa è una società che guarda al presente ma anche con un occhio che pensa anche al futuro. Comunque lo calcio femminile è una disciplina che negli ultimi anni si sta sviluppando, noi abbiamo colto l'occasione al volo e niente, ci crediamo come ci crede tutta la Tessa Calcio tutti i dirigenti. E siamo con Gabriele Farina, il timoniere della Tessa, riconfermatissimo alla guida tecnica della prima squadra, una prima squadra che si appresta a disputare questo campionato che ho definito più volte della ripartenza e nel quale c'è la possibilità, ci sono i margini per ben figurare, visto l'organico numericamente e qualitativamente buono allestito dalla società, vero? Sicuramente sì Antonio, potrei fare copia e incolla delle dichiarazioni che feci l'anno scorso e di questo periodo per quanto riguarda la ripartenza del campionato. Noi venivamo da un campionato di mia categoria stravinto e dovevamo conoscere quello che era il campionato di promozione, abbiamo allestito anche l'anno scorso una squadra buona come quest'anno, poi purtroppo il Covid ha bloccato tutto, però abbiamo assaggiato la durezza del campionato perché comunque avevamo le tre partite disputate, nonostante fossero tre partite secondo me da tecnico e chi mi conosce sa benissimo che sono una persona abbastanza equilibrata nei giudizi, fatta la grande, avevamo zero punti, questa dice lunga su quando si è complicato questo campionato dove ci sono squadre che sicuramente sotto l'aspetto fisico non sono secondi a nessuno e sicuramente la qualità dei singoli se messa al pari della condizione fisica potrà fare la differenza. Escrudendo i tanti giovani provenienti dal settore giovanile ma anche da altre squadre del territorio, vogliamo solo citare gli ultimi arrivati, quelli più esperti? Abbiamo cercato di rinforzare il pacchetto offensivo perché l'anno scorso noi eravamo solo Mattia Mainella che comunque aveva fatto bene nelle partite che aveva disputato fin lì e ti ripeto questo è un campionato dove abbiamo potuto constatare che soprattutto nella fase offensiva è importante avere giocatori di esperienza che la buttano dentro, dico una banalità perché è così in tutte le categorie, però quando c'è un equilibrio molto sottile dalle squadre l'uomo che là davanti ti fa la differenza ti porta punti a casa e credo che Bussoli, Molino e Zetik sono degli elementi per questa categoria molto molto validi. Hai avuto modo di sentire gli umori delle altre piazze? Ieri io ad esempio sono stato ad Ortona ed hanno allestito un'ottima squadra però onestamente non conosco molto bene le altre. No, non mi sono sentito con nessuno, so che comunque sia bisogna aspettare un po' tutte le ultime manovre di mercato perché è ancora tutto un po' in stand by, comunque sia rimanendo un po' il blocco di quello che erano l'anno scorso, credo che la Tollese, non so il San Salvo quest'anno che farà, comunque l'Ortona, Fossa Cesia, la Val Pescara che probabilmente è una società che ha preso un altro nome e che sarà probabilmente il nostro girone, sono squadre ultracompetitive, però ripeto adesso è tutto work in progress, aspettiamo un attimo perché ci sono più definitivi, sulla carta ancora un po' di giorni e poi vediamo un attimino. Hai chiesto altri rinforzi? No, ma io sono uno che non chiede mai. Un allegriano, un aziendalista? Penso che con i soldi propri ognuno possa fare quello che vuole, quindi di conseguenza i soldi non sono miei, non posso assolutamente cercare o chi, certo c'è sempre una sinergia tra me e la società che in questi anni si è creata, è un'alchimia giusta, tant'è vero che abbiamo fatto sempre campionati di vertici, togliere decisioni e soddisfazioni. Abbiamo continuato su questa strada anche quest'anno pensando che sia quella giusta, che gli elementi che abbiamo contrattualizzato sono gli elementi giusti per fare bene. Il DS della Tessa Nicola Cancellmo quest'anno si è dedicato anche a corsi intensivi di preparazione e di qualificazione ed è diventato un personaggio molto importante anche a livello nazionale per un'associazione dei direttori sportivi, quindi il nostro idolo Luciano Moggi deve cominciare a temere una concorrenza. No, 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 assolutamente no, magari, no, ho avuto l'orgoglio perché è una cosa bellissima di diventare responsabile della DISE per la regione Abruzzo, è un compito molto importante e spero di assolverlo nella maniera migliore possibile. Il referente nazionale mi sembra il nostro ex DS? Il presidente dell'associazione è l'attuale direttore generale dell'Inter Giuseppe Marotta, il nostro ex direttore generale della Juventus. Che qualcuno critica, però onestamente forse è da rivalutare un po'. No. Non ti esprimi. No, no, no. Parliamo invece più di cose nostrane, della Tessa, del campionato di promozione. Prima parlavo con Gabriele, io gli esprimevo un buon giudizio sull'Ortona, l'unica squadra che tra l'altro adesso, a parte voi, ho seguito dal vivo, lui mi ricordava anche la Tollese. Non so, i cugini della Val di Sangro come li vedi? La Val di Sangro ogni anno fanno una bellissima squadra, molto giovane, con i ragazzi del territorio come noi. Speriamo di fare entrambi un bel campionato perché è una cosa bella per tutti. Poi io giù nella società della Val di Sangro ho tantissimi amici con la quale c'è un rapporto molto bello. E chiudiamo con il discorso campo senza nessun accenno polemico ma è un dato di fatto che purtroppo quest'anno si andrà a giocare sotto però da quello che abbiamo appreso stasera dal sindaco bisognerà penare ancora per poco poi si dovrebbe ottenere questa benedetta agibilità forse. Vabbè questo è un problema che c'è, noi non ci possiamo fare niente, giochiamo giù senza nessun tipo di problema, non fa niente. Dove vi dicono andate? Dove giochiamo? Giochiamo, tanto il campo è uguale qua, uguale a Montemarconi, uguale a qualsiasi parte, ci sono due porte, calci d'angolo uguale quindi non può essere sicuramente una scusante. Per chiudere, non so adesso la regolamentazione per il Covid, avrete la possibilità di avere il pubblico al completo oppure ci saranno delle limitazioni? Guardi, sono onesto, non lo so, per il momento non ancora si riesce bene a capire però penso che il pubblico ci possa stare tranquillamente, poi il campo a Montemarconi c'è un'omologazione per tanti spettatori, sicuramente non riusciremo a farli tutto anche se abbiamo un pubblico che ci segue però, già avere i tifosi al campo è una grandissima cosa perché fare del calcio elettantistico in questi paesi e non avere il pubblico al campo è veramente meglio non fare niente se non ci possono stare i tifosi.